Ciao a tutti e ben ritrovati, come vedete dal titolo parliamo di un altro ciclo, sicuramente attualmente ormai in disuso, ma interessante perché poi ci introduce a un discorso che faremo in seguito. Parliamo cioè del cosiddetto, del famoso ciclo di Stirling, che è un ciclo, lo vediamo tra poco, costituito da quattro trasformazioni reversibili e compiuto, svolto da un gas ideale che va a scambiare calore con due sorgenti rispettivamente a temperature TQ1 e TQ2, dove noi supponiamo che TQ1 sia la temperatura della sorgente calda, TQ1 maggiore di TQ2, temperatura della sorgente più fredda. Inoltre scambia calore anche con uno cosiddetto scambiatore accumulatore di calore, che viene chiamato rigeneratore interno, che appunto ha il compito di incrementare il rendimento. Facciamo notare come appunto fu inventato e brevetato da Robert Stirling, anche grazie all'aiuto del fratello ingegnere. Questa macchina inizialmente si diffuse per un certo numero di anni, dopodiché, come già detto, con l'avvento soprattutto dei macchinari a vapore, ma soprattutto dei motori a combustione interna finì per andare, per essere meno utilizzata. Allora, andiamo a vedere da cosa è composta nel piano di Claperon, nel piano PV, ecco da cosa è composta. Allora abbiamo, vedete, una trasformazione isoterma, che vedete essere un'espansione, reversibile, a temperatura T con 1. Quindi in questo caso T con A è uguale a T con B, che poi è T con 1, la nostra sorgente a temperatura sorgente calda. E in tal caso il vano, il cosiddetto vano di espansione, verrà riscaldato dall'esterno. Il fluido quindi compierà una espansione isoterma, quindi AB è un'espansione isoterma. Dunque calcoliamo a questo punto, andiamo a calcolarlo applicando, come al solito, il calore scambiato, applicando il primo principio della termodinamica. Schiamolo qua, quindi stiamo parlando della trasformazione, esaminiamo nel dettaglio questo ciclo. Questa espansione isoterma, sappiamo che nell'isoterma il dU è 0, e quindi il primo principio che vi ricordo essere dQ uguale a dU più dL diventa dQ uguale a dL, ma già conosciamo l'espressione del lavoro del calore scambiato durante una trasformazione, un'espansione isoterma. DQ uguale a dL, quindi il calore scambiato lungo la trasformazione a B coinciderà con il lavoro lungo la trasformazione a B, che vi ricordo essere nR T con A o uguale a T con B, ma chiamiamolo T con U, sorgere a temperatura calda, logaritmo naturale di VB fratto Va, che è un calore ovviamente assorbito dall'esterno, infatti parliamo di un'espansione. al caso anche il lavoro è positivo. Passiamo alla seconda trasformazione, vedete questa qua, che evidentemente palesemente sarà un'isocora, o se preferite isocora, è l'isocora BC. qui riapplichiamo nuovamente il primo principio, dQ è sempre du più dl, ma ormai lo sappiamo bene, ormai lo sappiamo bene, nell'isocora, vi ricordo che è il DL a essere 0, d'altronde PdV, se non c'è variazione di volume, volume costante è BP per 0, quindi DL è 0, quindi in questo caso risulterà che questa volta dQ è uguale alla variazione infinitesima di energia interna e pertanto Q lungo la trasformazione BC, che coinciderà con ΔU di BC, sarà evidentemente pari a N, calore monale specifico a volume costante, T con C meno T con B. Tuttavia, possiamo indicare con ovviamente TB e TA sono le stesse, quindi anche TC meno TA, se volete anche, se mettiamo i pedici, visto che abbiamo indicato con T con 1 la temperatura di A e di B, potremmo scrivere che questa è NCV, se volete anche T con 3, meno T con 2, ma anche evidentemente NCV, T con 3, ovviamente, meno T con 1, T con 1 associante calda. Qua parliamo evidentemente di calore positivo, quindi assorbito, qui evidentemente stiamo parlando di calore ceduto. Evidentemente passiamo all'altra trasformazione isoterma, quella da C verso D, che questa volta è un isoterma, ma ovviamente una compressione isoterma, dove come prima a DQ ovviamente pari a DL, visto che DU, ve lo ricordo, è 0 in un isoterma, ma questa volta parleremo di un lavoro, di un calore ceduto negativo, perché il calore lungo la trasformazione CD, che poi è pari a il lavoro lungo CD, sarà evidentemente NR, chiaramente possiamo notare che in questo caso TC e TB, che abbiamo chiamato con T con 3, è uguale a TD, la temperatura non cambia, quindi sarà NR, se volete, la possiamo indicare con T2, che poi è la soluzione fredda, a temperatura soluzione fredda, logaritmo naturale di Vd su Vc, evidentemente. E questo chiaramente è un qualcosa di negativo, quindi un calore, una compressione, no? Calore, anche qui, evidentemente ceduto. E infine, l'ultima trasformazione, che è un'altra isocora, un'altra isocora, a volume costante, Vd uguale Va, nuovamente questa volta DQ è uguale a Du, e quindi il calore di DA sarà pari a ΔU di DA, cioè pari nuovamente a NCV ΔT, quindi T con 1 meno T con 4, ma anche NCV T con 1 meno T con 3, no? Evidentemente. Si può notare da tutto questo, da questi facili calcoli che il calore lungo la trasformazione di A isocora è pari a meno il calore di Vc. Questo è molto importante. Questo perché evidentemente, vi faccio notare, come al termine del ciclo la serie infinita di sorgenti caratterizzata da temperature T2 e T1 ha ceduto e assorbito durante le isocore le medesime qualità di calore. Il calore veramente scambiato tra fluido e sorgenti vale, evidentemente, la somma di Q con A più Q con C, che poi non è altro che quello scambiato nelle due isoterme. Il rendimento di un ciclo di Stirling, in questo caso chi sarà? Sarà, per definizione, il lavoro totale svolto fratto, ve lo ricordo, il calore Q con 1 assorbito, che però possiamo scrivere il lavoro come Q con 1, evidentemente meno Q con 2, tutto diviso Q con 1 e quindi anche scrivendolo come 1 meno il modulo di Q2 fratto Q1. Ora, questo lo possiamo anche scrivere però, se volete, anche come 1. Il lavoro totale è, ripeto, il lavoro totale, questo lo possiamo anche scrivere come direttamente Q con A il rendimento se riesco a farlo, se riesco a scriverlo. Il rendimento lo possiamo anche vedere, è la stessa cosa, evidentemente, come il lavoro totale, quindi Q con A più Q con C, sarebbe calore assorbito più calore ceduto fratto, evidentemente, il calore assorbito, cioè anche come 1 più Q con C fratto fratto Q con A e questo lo possiamo vedere come uguale, visto che abbiamo scritto chi è il calore ceduto e il calore negativo che abbiamo scritto prima è nRT2, parliamo del calore ceduto nella compressione isoterma, nRT con 2, temperatura della società di fare dal logaritmo naturale di Vd su Vc. Il calore assorbito è il calore che abbiamo assorbito durante l'espansione isoterma, quello positivo, cioè se volete nRT1 logaritmo naturale di Vb fratto Va. Tuttavia, io vi ricordo che Vc è uguale a Vb, parliamo di isocora, e Vd è uguale a Va, quindi il rendimento lo potremmo scrivere come 1 più, sicuramente al numeratore nRT2, ma possiamo scrivere Lnd, anziché scrivere Vd, noi possiamo scrivere Va fratto Vb, perché al posto di Vd, qui al numeratore dell'argomento del primo logaritmo al numeratore ho scritto Va, e al posto di Vc ho scritto Vb. Sotto nRT1 logaritmo di, evidentemente, Vb su Va, che potremmo tranquillamente scrivere come Va su Vb alla meno 1. Per proprietarare l'esponente meno 1 dell'argomento del secondo logaritmo al denominatore lo posso mettere davanti, e quindi questo diventa 1 meno, meno poi dove vi pare, nRT2 logaritmo di Va su Vb fratto nRT1 logaritmo di Va su Vb. I due logaritmi se ne vanno, nR e nR se ne vanno, e troviamo, cioè l'espressione dell'argomento che sarà 1 meno il rapporto tra la temperatura della sorgente fredda T2 e la temperatura della sorgente calda. Faccio notare che nel mazzolto ovviamente si invertono i pedici, si indica con T1 la temperatura della sorgente fredda, con T2 quella della sorgente calda, ma poco francamente cambia. Alla prossima, ciao a tutti.